Annuncia che Gesù è vicino. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo oggi il Vangelo di questo giorno dove la liturgia ci presenta a Barnaba, uno dei primi discepoli dopo la Pentecoste, e accogliamo Matteo 10, 7, 13. In quel tempo disse Gesù ai Suoi Apostoli, strada facendo predicate, dicendo che il Regno dei Cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro né argento né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele in saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa, ma se non ne è degna, la vostra pace ritorne a voi. Amen. Carissimi, oggi accogliamo un Vangelo che è missionario, tanto che si trova al capitolo decimo del Vangelo secondo Matteo, che da ieri abbiamo iniziato di nuovo ad accogliere nel tempo feriale, quindi da lunedì al sabato, però in un contesto diverso, differente. Ieri infatti Matteo 5 ci ha presentato l'inizio del primo grande discorso del Vangelo secondo Matteo, il discorso della montagna. E' molto connesso, sapete, perché praticamente Gesù ha detto Beati voi, quando riconoscerete che senza di me non potete fare nulla, quando vi riconoscerete in questa categoria, poveri in spirito, perché quando credete, proclamate e vivete in questa attitudine, allora io vi mando, io faccio di voi dei missionari, miei apostoli. Ecco il significato in greco. In questo mandato c'è un messaggio da parte di Gesù, strada facendo, predicate, dice. Annunciate che il regno dei cieli è vicino. Ebbene, questa frase, questa espressione, che la ritroviamo anche negli altri sinottici, è da ascoltare e leggere in greco, quando è scritto Enghiken e Basileia ton uranon. Il verbo Enghizo significa avvicinarsi. Matteo lo usa in una forma, in un tempo, che si chiama perfetto, cioè un'azione del passato che presenta uno stato, un effetto nel presente. Quindi si è avvicinato il regno dei cieli e oggi ha un effetto, è vicino, è qui, è in mezzo a noi. Vedete che è molto differente la traduzione, perché leggiamo dicendo che il regno dei cieli è vicino. Il regno dei cieli è qui, si è davvero avvicinato, da quando Gesù è venuto duemila anni fa in mezzo a noi, da quando Gesù è morto ed è risorto, ha mandato lo Spirito Santo. Ecco perché poi ci sono dei fatti incontestabili, dei fatti che accompagnano la nostra predicazione, ma tutto parte da un momento molto ben preciso, la venuta di Gesù. Il verbo si è fatto carne, il regno dei cieli si è avvicinato ed è vicino. Ecco perché Gesù dice ai propri discepoli andate, predicate che è già qui il regno dei cieli, è in mezzo a noi, da duemila anni si è avvicinato e noi lo possiamo sperimentare. Altrimenti l'espressione tradotta di andare a predicare dicendo che è vicino sembra che ancora si sta avvicinando, che ancora non è arrivato. Gesù è già arrivato, fratelli e sorelle, duemila anni fa, morto sulla croce, risorto e ora presente attraverso l'azione dello Spirito Santo. Ecco la nostra forza. Gesù lo ha detto ascendendo al cielo. Ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Quindi il regno dei cieli è vicino, è in mezzo a noi. Lo possiamo sperimentare quando siamo poveri in spirito, quando lo accogliamo, quando lo riconosciamo. Ho bisogno di te, Signore. Ecco che allora avvengono guarigioni, risurrezioni, purificazioni, allontanamento dei demoni e tutto il resto. E noi diventiamo testimoni gioiosi della presenza viva del Cristo risorto. Ecco perché tutti i giorni dell'anno, a parte il venerdì santo e il sabato, il mio saluto, il nostro saluto è Christos Anesti. Cristo è risorto. Già questo annuncio, già questo saluto, dice Gesù è qui, Gesù è vicino, Gesù ha sconfitto ogni male. Preghiamo insieme dicendo grazie, Signore Gesù, per questa parola. Grazie perché oggi vuoi mandare me, come duemila anni fa, hai mandato Barnaba a Cipro, insieme a Paolo, a evangelizzare alle genti. manda a me oggi, nel mio lavoro, ai miei amici, a coloro che incontrerò, manda a me, come tuo testimone, perché io annuncio che tu sei vivo, che tu sei in mezzo a noi. E a te sia sempre la gloria, per tutti i secoli dei secoli. A me. Carissimi amici, lo slogan di oggi è annuncia che Gesù è vicino. Testimonialo con la tua vita, con la gioia che Dio ha messo dentro di te. Questo era Matteo, Matteo 10. Questa sera inizieremo, in questa seconda puntata del seminario online, Gesù nei quattro Vangeli, a vedere, a scoprire, chi era Matteo Levi. Chi era quest'uomo che ci ha presentato il Vangelo di Gesù in cinque grandi, bellissimi discorsi. Iscrivetevi, se ancora non lo avete fatto, riceverete il link per la serata. Grazie per avermi accolto. A domani. Ciao. Ciao. Parla, Signore, perché il tuo servo ascolta. Parla, mi Signore, ti ascolto, ti ascolto.